Una doccia gelata, il tecnico della Paganese, Zio Lino Capuano, era arrivato ieri pomeriggio fino a Grottaglia, accompagnato da alcuni dirigenti pronto per ottenere la firma sul contratto di Riccardo Innocenti. Ed invece il bomber che sembrava vicinissimo alla fine ha scelto Barletta. Tutto era andato come nelle previsioni, così come avevamo anticipato. Innocenti, convocato da Dionigi per la trasferta di Gela, ma solo per fare il numero. Va in panchina e non gioca. Poi il Taranto che ufficializza l'ingaggio del francese Ousmane Saida alla regina, quindi la rescissione consensuale di contratto con il club ionico di Innocenti e la promessa non mantenuta, a quanto pare, di non accordarsi con una società dello stesso girone del Taranto. Piccola bugia e di corsa verso Barletta per la firma con la squadra che gli ha garantito gli stessi soldi della Paganese e lo stesso contratto sotto il profilo temporale, cioè un anno e mezzo. A fare la differenza, a quanto pare, è stata la spinta della compagna di Innocenti, Nicole, conosciuta dal bomber ai tempi delle sue esperienze di Gualdo e Basto e sposata nel 2007. La Puglia è rimasta nel cuore della signora Innocenti, specie dopo le esperienze di Gallipoli e Taranto, tanto da convincere il marito attaccante a dire no alla Paganese. Capuano, su tutte le furie per questo due di picche, starebbe già lavorando per tentare un nuovo assalto a Raffaele Biancolino. Il pitone del Cosenza è stato sempre nel mirino della società Liguerina. A fare, però, non semplice, ma come si dice in gergo, si chiude una porta e si apre un portone. Quello siciliano di Gela, squadra in via di smobilitazione con il brasiliano Franziele e il ragusano Emilio Docente, che potrebbero fare al caso della Paganese. Infine, qualche notizia prima in vista del derby di domenica con la Salernitana. Le forze dell'ordine hanno chiesto, per motivi di ordine pubblico, alla RAI di irradiare la partita indiretta, richiesta che potrebbe essere accolta. Sicura anche la presenza di tantissimi tifosi della Paganese sugli spalti. Dovrebbero tornare anche a farsi vivi tutti i sostenitori dei gruppi organizzati che negli ultimi tempi hanno disertato il Marcello Torre. Si prevede quindi un colpo d'occhio eccezionale domenica nell'impianto della città di Sant'Alfonso.